e forse avere l'impirazione giusta anche all'ultimo istante perché a volte alla fine si ha il colpo geniale che ci fa vedere quello che fino a quell'istante non si è diventato Partiti! E' un vantaggio Purrock con vicino il papero, seguono Anfield Road Lampi nel silenzio, Lorando, Ileni, Mister Romaldo Parpelletta, Castle Ward e Marex Dopo 400 metri di corsa in vantaggio il papero davanti a Lampi nel silenzio, Purrock, Lorando, Ideni Mister Romaldo, Last Dance, Parpelletta, Marex e Castle Ward Prosegue in vantaggio il papero con vicino Lampi nel silenzio Seguono Purrock, Mister Romaldo, Lorando, Ideni, Last Dance, Marex All'inizio della curva Lampi nel silenzio, Purrock e il papero conducono davanti a Mister Romaldo Lorando, Ileni, Anfield Road, Last Dance, Poco prima dell'ingresso, in vantaggio il papero davanti a Lampi nel silenzio, Purrock e Mister Romaldo I cavalli entrano in dirittura Con il papero in vantaggio davanti a Mister Romaldo, Rolando, Ideni, Purrock, Anfield Road, Marex e Perline interne Seguono Castle Ward e in vantaggio il papero attaccato all'esterno da Mister Romaldo Passa Mister Romaldo davanti a Il papero Marex, Last Dance, Ampio e Rosi avvantaggio a Mister Romaldo davanti a Il papero, Marex e Last Dance Mister Romaldo Grazie a tutti Grazie a tutti